sul treno postale che andava da pietroburgo a mosca viaggiava in uno scompartimento per fumatori il giovane tenente klimov di fronte a lui era seduto un uomo maturo dalla faccia rasa da capitano marittimo secondo ogni apparenza un agiato finlandese o svedese che per tutto il viaggio aveva succhiato la pipa e parlato sempre sullo stesso tema voi siete ufficiale anch'io ho un fratello ufficiale solo che lui è in marina è in marina e presta servizio a kronstadt voi perché andate a mosca sono in servizio colà e avete famiglia no vivo con una zia e una sorella anche mio fratello è ufficiale di marina ma lui ha famiglia ha moglie e tre bambini il finlandese si meravigliava chissà di che aveva un sorriso largo da idiota quando esclamava e non faceva altro che soffiare nella sua pipa puzzolente limov che era indisposto e per il quale era gravoso rispondere alle domande lo odiava con tutta l'anima e gli fantasticava che sarebbe stato bello strappargli di mano la pipa sibilante e scaraventargliela sotto il divano e cacciar via in qualche altra carrozza il finlandese stesso gente odiosa questi finlandesi e greci pensava gente affatto superflua non utile a niente e odiosa occupano soltanto del posto sul globo terraqueo e a che servono il pensiero dei finlandesi e dei greci produceva in tutto il suo corpo un che dissimile alla nausea per contrasto voleva pensare ai francesi agli italiani ma il ricordo di questi popoli suscitava in lui chissà perché soltanto immagini di sonatori d'organetto di donne nude e di certe oleografie esotiche che erano appese in casa della zia sopra il cassettone in genere l'ufficiale si sentiva in uno stato anormale le sue mani e le sue gambe in certo qual modo non trovavano posto sul divano sebbene questo fosse tutto a sua disposizione egli aveva la bocca secca e appiccicosa e nella testa una nebbia pesante i suoi pensieri parevano vagare non solo nel capo ma anche fuori del cranio in mezzo ai divani e alle persone avvolte nell'oscurità notturna attraverso la confusione della sua testa egli udiva come attraverso il sonno il borbottio delle voci lo strepito delle ruote lo sbattere delle porte i segnali del campanello i fischi del capotreno il viavai del pubblico sulla banchina erano da lui sentiti con più frequenza del solito il tempo volava rapido inavvertito e perciò sembrava che il treno si fermasse davanti alle stazioni a ogni momento e che di continuo giungessero dall'esterno delle voci metalliche è pronta la posta? pronta pareva che il fochista entrasse troppo spesso a dare un'occhiata al termometro e che il rumore di un treno che andava in senso inverso e il frastuono delle ruote su un ponte si udissero senza interruzione il rumore, i fischi, il finlandese e il fumo del tabacco tutto ciò mescolandosi coi gesti minacciosi e l'ammiccare di immagini nebulose la cui forma e cui carattere l'uomo sano non può rammentare opprimeva Klimov come un intollerabile incubo in una paurosa angoscia egli sollevava la testa pesante gettava occhiate a un fanale nei cui raggi turbinavano ombre e macchie nebulose voleva chiedere dell'acqua ma la lingua secca si muoveva a stento e appena gli bastava la forza di rispondere alle domande del finlandese cercava di adagiarsi un po' più comodamente e di prendere sonno ma ciò non gli riusciva il finlandese più volte si addormentò si svegliò, accese la pipa si rivolse a lui col suo ah! e se li addormentò ma le gambe del tenente continuavano a non trovar posto sul divano in nessuna maniera e le immagini minacciose gli stavano tuttora davanti agli occhi a Spirovo uscì in stazione per bere dell'acqua egli vedeva della gente seduta a tavola che si affrettava a mangiare ma come possono mangiare? pensava sforzandosi di non annusare l'aria odorosa di carne arrostita e di non guardare le bocche che masticavano l'una e l'altra cosa gli parevano ripugnanti fino alla nausea una bella signora conversava ad alta voce con un militare in berretto rosso e sorridendo metteva in mostra dei magnifici denti bianchi e il sorriso e i denti e la signora stessa produssero su Klimov un'impressione altrettanto disgustosa quanto il prosciutto e le costolette arrosto egli non poteva capire come per il militare in berretto rosso non fosse angoscioso starle seduto accanto e guardare il suo volto sano e sorridente quando egli bevuta l'acqua tornò in carrozza il finlandese era seduto e fumava la sua pipa si bilava e gemeva come una soprascarpa bucata con tempo umido ah egli si meravigliò che stazione è questa non so rispose Klimov coricandosi e chiudendo la bocca per non respirare il fumo acre del tabacco e quando saremmo a Tver? non so scusate io io non posso rispondere sto male oggi mi sono raffreddato il finlandese batte la pipa contro il telaio del finestrino e si mise a parlare del fratello ufficiale di Marina Klimov ormai non l'ascoltava più e si rammentava con anguscia del suo soffice e comodo letto della calaffa di acqua fredda della sorella Katia che sapeva così bene porre a letto calmare porger dell'acqua sorrise perfino quando gli balenò nella fantasia l'attendente Pavel che toglieva al padrone i pesanti opprimenti stivali e metteva l'acqua sul tavolino mi sembrava che sarebbe bastato corricarsi sul letto e bere dell'acqua perché l'incubo lasciasse il suo posto a un sonno profondo e sano è pronta la posta? giunse da lontano una voce sorda pronta? rispose una voce di basso quasi accanto al finestrino era già la seconda o la terza stazione dopo Spirovo il tempo volava rapido a sbalzi e pareva che segnali di campanello fischi e fermate non dovessero aver fine Klimov disperato cacciò il viso in un angolo del divano si afferrò il capo con le mani e si rimise a pensare alla sorella Katia e all'attendente Pavel ma la sorella e l'attendente si mescolarono con le immagini nebulose presero a girare e sparirono il suo respiro ardente rimbalzando dalla spalliera del divano gli bruciava il viso le sue gambe stavano scomode nel dorso gli soffiava l'aria del finestrino ma per quanto tutto ciò fosse tormentoso egli non voleva più cambiare la sua posizione una pigrizia greve di incubo si era poco a poco impadronita di lui e gli incatenava le membra quando si risolse ad alzare la testa nella carrozza era già chiaro i passeggeri indossavano le pellicce e si muovevano il treno era fermo i facchini in grembiali bianchi e con le placche sul petto si affaccendavano intorno ai viaggiatori e pigliavano loro le valigie Klimov infilò il cappotto come un automa uscì dalla carrozza dietro agli altri e gli pareva che non fosse lui a camminare ma al suo posto qualcun altro un estraneo ed egli sentiva che insieme a lui uscivano dalla carrozza il suo gran caldo la sua arsura e quelle immagini minacciose che durante tutta la notte non l'avevano lasciato dormire come un automa ritirò il bagaglio e prese una vettura il vetturino gli chiese per portarlo fino a Povarskaya un rublo e un quarto ma egli non mercanteggiò e senza replicare montò docilmente nella slitta capiva ancora la differenza tra i numeri ma il denaro per lui non aveva più alcun valore a casa accolsero Klimov la zia e la sorella Katia una ragazza di 18 anni nelle mani di Katia mentre lo salutava c'era un quadretto e una matita ed egli si ricordò che la si stava preparando all'esame di insegnante senza rispondere alle domande ai saluti ma sbuffando solo dal caldo fece senza scopo alcuno il giro di tutte le stanze e arrivato al proprio letto si lasciò cadere sul guanciale il finlandese il berretto rosso la signora dai denti bianchi l'odore di carne al rosto le macchie ammiccanti avevano occupato la sua coscienza ed egli non sapeva più dove fosse e non udiva le voci inquiete riavutosi si vide nel proprio letto svestito vide la caraffa dell'acqua e Pavel ma non si sentì per questo né più fresco né più morbido né più comodo gambe e braccia come prima non trovavano posto la lingua gli si attaccava al palato ed egli udiva gemere la pipa del finlandese accanto al letto urtando Pavel con la sua larga schiena si affaccendava un dottore robusto dalla barba nera non è nulla non è nulla giovanotto egli borbottava benissimo benissimo tec tec il dottore chiamava Klimov giovanotto invece di tac diceva tec invece di da de 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 diceva tutto spiano tec tec benissimo giovanotto non bisogna abbattersi in rapido non curante modo di parlare del dottore la sua faccia ben pasciuta e quel condiscendente giovanotto irritarono Klimov perché mi chiamate giovanotto egli gemette che familiarità è questa al diavolo e si spaventò della propria voce era secca debole e cantante a tal punto che era impossibile riconoscerla benissimo benissimo borbottò il dottore senza punto offendersi non bisogna arrabbiarsi de 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 anche a casa il tempo volava con la stessa sorprendente rapidità come sul treno la luce diurna della camera era continuamente sostituita dall'oscurità notturna pareva che il dottore non si allontanasse dal letto e che ogni momento si udisse il suo de 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 attraverso la camera si allungava incessantemente una fila di persone c'erano lì Pavel il finlandese il capitano in seconda Iarzevich il sergente maggiore Maximenko il berretto rosso la signora dei denti bianchi il dottore e tutti parlavano agitavano le mani fumavano mangiavano una volta perfino alla luce del giorno Klimov vide il suo cappellano reggimentale padre Aleksandr che con la stola indosso e il messale in mano stava in piedi davanti al letto e mormorava qualcosa con un viso così serio come Klimov non aveva mai notato in lui prima di allora il tenente si ricordò che padre Aleksandr chiamava amichevolmente gli Aki tutti gli ufficiali cattolici e desiderando farlo ridere gridò reverendo il Liak Iarzevich ha tirato fuori una barzelletta ma padre Aleksandr uomo facile riso e allegro non si mise a ridere anzi diventò anche più serio e fece il segno di croce su Klimov di notte una volta dopo l'altra entravano e uscivano senza far rumore due ombre erano la zia e la sorella l'ombra della sorella si inginocchiava e pregava ella si inchinava all'immagine e si inchinava sulla parete anche la sua ombra grigia di modo che due ombre pregavano Dio c'era di continuo nell'aria odore di carne arrosto e quello della pipa del finlandese ma una volta Klimov sentì il profumo acuto dell'incenso egli prese ad agitarsi dalla nausea e gridò l'incenso portate via l'incenso nessuno rispose si udiva soltanto che in qualche luogo dei preti cantavano a bassa voce e che qualcuno correva per la scala quando Klimov si riebbe dal sopore nella camera non c'era anima il sole mattutino batteva alla finestra attraverso la tendina abbassata e un tremulo raggio di sole fine e grazioso come il filo di una lama giocava sulla caraffa si udiva uno strepito di ruote dunque sulla via non c'era più neve il tenente guardò il raggio di sole i noti mobili l'uscio e per prima cosa si mise a ridere il petto il ventre gli tremarono per quella dolce felice e solleticante risata tutto il suo essere dalla testa ai piedi fu invaso da una sensazione di infinita felicità e di gioia vitale quale probabilmente sentì il primo uomo quando fu creato e per la prima volta vide l'universo Klimov provò una voglia appassionata di movimento di gente di discorsi il suo corpo giaceva come cosa inerte si muovevano soltanto le mani ma di questo egli appena si accorse e appuntò tutta la sua attenzione sulle minuzie egli gioiva del suo respiro del suo riso gioiva che esistessero la caraffa il soffitto il raggio di sole il nastro della tendina il mondo di dio perfino in un cantuccio così angusto come la stanza da letto gli pareva bellissimo variato e vasto quando comparve il dottore il tenente pensò che magnifica cosa fosse la medicina come fosse caro e simpatico il dottore come in generale fossero buoni e interessanti gli uomini dè 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 diceva tutto spiano il dottore benissimo benissimo ora stiamo bene tac tac il tenente ascoltava e rideva gioiosamente si ricordò del finlandese della signora dai denti bianchi del prosciutto e gli venne voglia di fumare di mangiare dottore disse fatemi dare una crosterella di pan di segala col sale e delle sardine il dottore disse di no pavel non obbedì all'ordine e non andò a prendere il pane il tenente non potereggere e si mise a piangere come un bimbo capriccioso bambinello disse ridendo il dottore mamma cantagli la ninna nanna rise anche Klimov e uscito il dottore si addormentò a fondo si svegliò con quella stessa gioia e con una sensazione di felicità accanto al letto era seduta la zia zia si rallegrò che cosa ho avuto tifosian tematico guarda un po' ma adesso sto bene benissimo dov'è Katia non è in casa probabilmente è andata in qualche posto dopo l'esame la vecchia disse questo e si chinò sulla calza le labbra le tremarono e la si voltò di là e tutta un tratto diede in singhiozzi nella sua disperazione dimenticato il divieto del dottore proferì ah Katia non c'è più il nostro angelo non c'è più lasciò cadere la calza e si curvò per prenderla e in questo mentre le scivolò di capo la cuffia dato uno sguardo con la sua testa canuta e non riprendendo nulla Kinimov si scomentò per Katia e domandò ma dov'è zia la vecchia che già s'era scordata di Klimov e aveva presente solo il proprio cruccio disse sei preso il tifo da te e e è morta l'abbiamo seppellita ieri l'altro questa terribile inattesa notizia entrò pienamente nella coscienza di Klimov ma per quanto fosse terribile e forte non pote vincere la gioia animale che colpiva di sé il tenente convalescente piangeva rideva e presto si mise a inveire perché non gli si dava da mangiare solo una settimana dopo quando egli in veste da camera sostenuto da Pavel si avvicinò alla finestra guardò l'imbronciato cielo primaverile e tese l'orecchio allo strepito sgradito delle vecchie rotaie che passavano davanti alla casa il suo cuore si strinse dal dolore egli si mise a piangere e cadde con la fronte contro il telaio della finestra come sono disgraziato mormorò dio come sono disgraziato e la gioia lasciò il posto alla noia di tutti i giorni e al sentimento dell'irrevocabile perdita grazie a tutti